Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Dopo la naufragata storia d'amore con Belen Rodriguez Antonino Spinalbese ha messo nero su bianco i suoi sentimenti lasciando di stucco i fan Scopriamo che cosa ha dichiarato il hairstylist che ha avuto una relazione con la bella modella argentina Non lasciano più dubbi le parole di Antonino Spinalbese. Il celebre parrucchiere ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti per lei Antonino Spinalbese, i sentimenti che prova per lei.Il nome di Antonino Spinalbese è diventato noto agli appassionati di cronica rosa e spettacolo da quando è intrapreso Una relazione con la modella e showgirl Belen Rodriguez I due si sono incontrati per la prima volta sull'isola spagnola di Ibiza due anni fa ed è scattato il classico colpo di fulmine Nonostante però tra di loro il reciproco interesse sia sbocciato subito, e nonostante tra i due ci sia una differenza anagrafica di ben dieci anni Tra la conduttrice e il hairstylist è stato tutt'altro che un fuoco di paglia Anzi, i due insieme hanno costruito una bellissima storia d'amore e hanno avuto una splendida bambina, Luna Marie, che ha compiuto un anno il mese scorso Purtroppo però anche le fiabe a volte non finiscono come ci si aspetta e non per tutti c'è l'happy ending Così per incomprensioni reciproche la loro relazione è giunta al capolinea Belen come si sa ha voltato pagina, tornando tra le braccia di Stefano De Martino, mentre il hairstylista ha appena fatto chiarezza sui propri sentimenti L'ex partner della splendida modella argentina nelle scorse si è improvvisamente lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d'amore pubblica, rivolta a qualcuno che da poco è entrato a far parte della sua vita Le parole dell'ex fidanzato di Belen hanno colto di sorpresa il pubblico Scopriamo a chi è indirizzata e che cosa ha scritto.altro che amore per Belen Antonino Spinaldese nelle scorse ore ha scritto sul suo profilo Instagram una dedica molto dolce rivolta alla lei che gli ha rubato il cuore Tutti gli affezionati seguaci, commossi dalle parole toccanti del hairstylist hanno lasciato commenti e likes Destinataria di questo pensiero è la piccola Luna Marie, per la quale ha scritto Ci conosciamo da poco ma non ho mai amato così l'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio Punto accanto al dolce messaggio l'amato parrucchiere ha condiviso uno scatto davvero intimo e particolarmente emozionante, che allora ritrae mentre lui e Luna Marie si scambiano un bacio tenerissimo sulle labbra Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video